A proposito di social, è accaduto proprio oggi un episodio che forse va anche un po' oltre. Per la seconda volta sono riusciti, non si sa come, a violare il suo profilo Facebook e questa volta hanno pubblicato una sua foto a testa in giù. Questa minaccia, perché è una minaccia a tutti gli effetti, la preoccupa? Ma no, preoccupare sinceramente no. Mi dà fastidio, mi dà fastidio che entrino nel mio account, addirittura non riuscivo neanche a rientrare perché avevo perso la password, nel senso che erano dentro loro e non potevo entrare io. Mi dà fastidio che mettano le mie foto, sicuramente mi dà fastidio il fatto che mi scrivano quelle cose, però preoccupata sinceramente no, ecco, magari sbagliando, però no, penso siano minacce che insomma finiscono poi lì.